Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi alla Fondazione Agnelli per le celebrazioni del Cinquantenale. Il Capo dello Stato è stato accolto dal Presidente di Exor, FCA, Gionel Can, dal Presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, e dalla Sindaca di Torino, Chiara Appendino. Per noi c'era Michele Ruggero. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella Torino, ospite della Fondazione Agnelli, che stamane ha celebrato il suo primo mezzo secolo di vita presentando la sede di Via Giacosa, ristrutturata e riqualificata. Vediamo le immagini girate stamane all'inaugurazione per la stampa. Il Capo dello Stato è arrivato alle 17.20 e si è seduto accanto a Maria Sol Agnelli, Presidente della Fondazione, sorella dell'Avvocato Gianni Agnelli, colui che nel 1966 l'ha promossa per ricordare il centenario della nascita del cofondatore della Fiat, il nonno e il senatore del Regno Giovanni Agnelli. La Fondazione cominciò poi la sua attività nel 1967. Un impegno profuso per la ricerca, come hanno ricordato nei loro passaggi, sia il direttore della Fondazione, Andrea Gavosto, sia il Vicepresidente, John Elkan. Una ricerca che nell'ultimo decennio ha puntato a tutte le sue risorse che oscillano tra i 4 e i 5 milioni di euro l'anno sull'istruzione e sull'innovazione. Elementi fondamentali nella costruzione di una comunità e dunque condivisi da rappresentanti delle istituzioni, dal Presidente della Regione Sergio Chiamparino, alla Sindaca di Torino Chiara Pendino, presenti alla cerimonia, insieme a Sergio Marchionne, numero uno di FCA, e Michael Bloomberg, ex-sindaco di New York e magnate della comunicazione, che non ha mancato di lanciare una frecciatina al Presidente USA, Donald Trump. Malgrado lui gli USA faranno la loro parte, ha detto, per combattere il cambiamento climatico e le emissioni dei gas Serra.